Prima una riunione di maggioranza, poi lunedì 24 il passaggio in commissione. Comincia la sette giorni cruciale per il centro-sinistra regionale, alle prese tra le altre cose con una degli scogli più difficili da superare, il nodo consorzi di bonifica. Nelle prossime ore se ne parlerà in un vertice di maggioranza allargata, convocato dal governatore Nichi Vendola. Per la prima volta, infatti, a ricevere l'invito a partecipare sono stati anche i partiti di centro, Udc e Scelta Civica, attualmente all'opposizione. In realtà, nella riunione delle prossime ore sono due i punti all'ordine del giorno, bilancio e, come detto, consorzi. Il primo, infatti, si incentrerà essenzialmente sulla riduzione delle tasse. Un atto voluto e dovuto, perché nell'area c'è il pronunciamento della Corte Costituzionale, che con ogni probabilità boccerà il ritocco agli scaglioni di reddito per l'IRPEF approvato a fine anno. Dunque, si dovrà necessariamente intervenire e lo si farà riducendo l'addizionale. Questo è un provvedimento che probabilmente sarà provato a strettissimo giro e, se la consulta darà torto alla Regione, dovrà essere retroattivo, ovvero dovrà valere da gennaio scorso e non dal 2014, come in realtà vede la Prassi. L'assessore al bilancio della Regione, Leonardo Di Gioia, però avrebbe mostrato l'intenzione di ragionare su un piccolo ritocco anche delle altre aliquote IRBA e IRAP. Il principio è che se bisogna ridurre le tasse, è meglio farlo tutto insieme, non attendere dicembre, come generalmente si fa, per riprendere nuovamente l'argomento. Se sulle tasse ci sarà certamente l'unanimità, l'altro scoglio, il più grosso, divide la maggioranza. Ed è il ritorno alle cartelle sattoriali per i consorsi di bonifica. Gli enti che ricevono costanti e massicci finanziamenti regionali, l'ultimo del calibro di 20 milioni di euro, per non continuare ad essere pesanti zavorre, dovrebbero ritornare ad autosostenersi. E l'unico modo, pare, sia il ritorno alle cartelle sospese nel 2005. Questo significa che gli agricoltori dovranno tornare a pagare per i servizi di cui soffruiscono, sebbene dalle opposizioni si continui a dire che anche quelli, cioè i servizi, non sono veramente garantiti. Quanto, come e da quando pagare è un problema che non si riesce a risolvere, ma che questo provvedimento fosse nell'aria era cosa nota, da quando nel Consiglio regionale di febbraio 2012 fu approvata la legge di riforma dei consorsi, che però fino ad oggi non ha dato risultati. Grazie.